Un avvocato divorzista. Firmi la separazione oppure ci vediamo in tribunale. Un consulente matrimoniale. Mentire è la tomba del matrimonio. Due mondi lontani. Direttamente dalle stati della nostra infanzia, Stefano Parisi. Il ciccio. E qualcosa in comune. Questa è una ghiera. Questa non è la ragazzina che ti piaceva quando c'era i dieci anni. E stavo pensando che magari noi due per pranzo potremmo... Scordatelo. Poli opposti. Dall'8 ottobre al cinema.